Attacco aereo nel vostro settore! Attacco d'artiglieria imminente! Attacco d'artiglieria imminente! Carro armato! A ore 12! Distanza 400! Attacco d'artiglieria! Come ordinate! Bravo! 5! Eliminare! Bravo! 5! 5! Appena il fuoco! Attacco d'artiglieria imminente! Attacco d'artiglieria imminente! Carro armato! A ore 12! Eliminare! Attacco d'artiglieria imminente! Intrini ready! Attacco d'artiglieria imminente! Attacco d'artiglieria imminente! Attacco d'artiglieria imminente! Attacco d'artiglieria imminente! Grazie! 짠! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Versaglio colpito. Grazie a tutti. Versaglio colpito. Versaglio colpito. Versaglio colpito. Versaglio colpito. Carro armato. A ore 11. A brocciapelo. Colpito. Versaglio colpito. Carro armato. A ore 9. In prossimità. Versaglio colpito. Versaglio colpito. Versaglio colpito. Versaglio colpito. Versaglio colpito. Versaglio colpito. Capito colpito. Capito colpito. Capito colpito. Avanziamo Versaggio colpito Versaggio colpito Versaggio colpito Versaggio colpito Versaggio colpito Versaggio colpito Capito! Grazie a tutti! 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 Eliminare! Alpha 6! Aprire il fuoco! LR 4! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!